buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi venerdì primo giugno so che a molti commensali di questa zuppa che la seguono da anni questo governo giallo verde non dispiace affatto molti di voi sono fan di questo lasciamo perdere i troll cioè i critini che fanno commenti perché vogliono entrare nelle pagine degli altri io sto parlando di voi che mi seguite numerosi da anni e so che a molti di voi questo governo piace io dico soltanto una cosa il titolo forse oggi più azzeccato è quello d'italia oggi cioè un governo tecno populista in cui ci sono tecnici ci sono populisti e l'altra cosa che dico è finalmente un governo ce l'abbiamo che è la cosa forse fondamentale perché se c'è una cosa su cui ci dobbiamo mettere un po tutti accordo e se ancora sopportiamo la democrazia e se la maggioranza dei cittadini italiani ha votato due partiti anche se in maniera un po equivoca perché gli eletti della lega sono stati eletti anche da elettori di forza italia che forse questo governo non lo volevano insomma in questa democrazia spuria in questa legge elettorale spuria se questi vogliono governare facciamoli governare se faranno casini poi dopo non li voteremo le prossime elezioni mi auguro ad esempio che non ci sia più nessun pazzo moderato di centrodestra che roma voti la raggi visto che la raggi ha preso il 70 per cento dei voti che gestisce questa città da verrebbe dire da persona che assume psicofarmaci non lo penso ovviamente ma mi sembra una specie di squilibrata beh insomma immagino che i prossimi diciamo alle prossime elezioni centrodestra direttori moderati ci ripensino su due volte prima di votarla stessa cosa penso che valga per questo governo si dovesse far male se fa bene invece ci lo teniamo per i prossimi anni va benissimo basta che si faccia governare perché se non governa nessuno mi sembra chiaro che esplode una specie di impotenza e di rabbia cosa dicono i grandi giornali beh buona fortuna è il titolo secondo me azzeccato del giornale perché nei confronti di un governo in cui c'è anche una componente rassicurante per i moderati diciamo è una parola forte moderati ma diciamo per il centrodestra che i leghisti gli dà una buona fortuna però secondo me con un sorriso un po amaro governo giura è invece il titolo assettico del Corriere della Sera mentre la Repubblica continua con la sua strategia tostissima contro questo governo senza se e senza ma i populisti al governo e nel sottotitolo la cosa più forte è ricorda come il ministro della salute Giulia Grillo è una di quelle che è contraria all'obbligatorietà dei bacini lo mette subito in prima pagina poi parleremo dei ministri ovviamente ma Repubblica non se lo fa sfuggire un po di cose ve le devo dire oggi leggendo forse la cosa più interessante è la contraddizione di questo governo che nasce per quale motivo domenica c'era l'impeachment e mercoledì invece Di Maio va al Quirinale e cambia idea e chiede di fare un governo per quale motivo domenica Mattarella aveva tirato fuori dalla manica Cottarelli e mercoledì l'ha messo nel frigorifero che tra l'altro ha fatto un saluto straordinario ieri da grande dignità mi sembra quella che ha fatto Cottarelli per quale motivo ha cambiato così velocemente idea Di Maio perché voleva governare probabilmente perché se fosse tornato nel partito sarebbe tornato da pertente oggi ci sono delle retroscene in cui dicono che adesso chi comanderà nel momento 5 stelle posto che lui è diventato vice premier la seconda cosa è perché Salvini non aveva accettato di cambiare Savona al ministero dell'economia e dopo tre giorni cambia Savona al ministero dell'economia ragazzi queste sono delle cose che uno banalmente si può chiedere poi adesso governerete governerete bene ma qualcuno forse potrà dire passiamo dalla trasparenza e dello streaming da duri e puri perché Savona e rappresenta un simbolo cosa che dice a me in trasmissione e poi dopo lo mette alle politiche comunitarie mettendo Tria un pragmatico moderato di cui parleremo tra poco al ministero dell'economia cosa cambia? Un retroscene del Corriere della Sera dice cambia il fatto che Di Maio si è fatto fare un sondaggio e dice che lui aveva il 41-42% di voti in Movimento 5 Stelle da Pagnoncelli che Dio ce la mandi buona e quindi che sarebbe per lui andato a votare subito il 29 luglio cosa che invece Salvini sia per motivi geografici sia perché non avrebbe neanche fatto un atto decente di sensazionalismo diciamo di sicurezza Salvini non se la sentiva di evitare il 29 luglio e su quello sarebbe caduto questo è il retroscena del Corriere della Sera ma ce ne sono tante cose strane per ora su come siamo partiti è l'atteggiamento della Meloni la Meloni dice a Michael Movimento 5 Stelle poi diventava un all'interno delle sarebbe entrata all'interno del governo e poi non è entrata perché Di Maio dice no il titolo più divertente adesso non me lo ricordo insomma è un Di Maio che dice no alla Meloni perché avrebbe spostato troppo a destra l'asse di questo governo ma la Meloni adesso perché dal sostegno esterno e soltanto una settimana fa non avrebbe dato cosa è cambiato e la Meloni che tanto aveva difeso Savona non se la trova più come ministro Savona lo mettono dall'altra parte eppure da il 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 Anna è stato indicato Savona hanno messo le politiche comunitarie un ministero senza portafoglio che non conta nulla sapete che hanno messo al ministero dell'economia così ve ne parlo direttamente Enzo Moavero Enzo Moavero gli fate schifo voi io gli faccio schifo Enzo Moavero avete presente chi è Enzo Moavero è l'elite tecnocratica europea a cui il popolo fa schifo ribrezzo l'Europa viene prima dell'Italia lui la pensa come Juncker noi siamo un popolo di corrotti chiunque vada a vedersi quello che dice quello che scrive quello che pensa Moavero lo trova l'antitesi di Salvini ed è il motivo per il quale ci sta simpatico Salvini ci sta sui coglioni uno come Moavero ed è del tutto chiaro questo no andatevelo a guardare non è Tria non è Di Maio Moavero va bene Moavero andatevelo a vedere il nostro ministro degli esteri quindi di che stiamo parlando manco ministro degli esteri hanno fatto Savona alle politiche comunitarie un ministero che conta zero chi era il ministro delle politiche comunitarie del passato governo dai chi era bene l'altra cosa fantastica secondo me di questa vicenda l'ho un po accennata sono i nuovi i nuovi economisti beh insomma intanto questo Tria oggi lo ricorda bene il foglio perché io Tria lo leggevo sempre sul foglio perché aveva una rubrica i due economisti con felli ed era una rubrica di due economisti pragmatici due economisti senza grilli per la testa li chiamano neochenesiani ma non so se valga più l'aggettivo come dice o il neo cioè non riesco a capire se sono i più vale il neo dei chenesiani nella loro definizione come dice giustamente il foglio di oggi che li conosce bene insomma si tratta di uno che secondo alcuni addirittura è un amicone di Brunetta secondo il foglio secondo scusatemi il fatto il repubblica avrebbe scritto il programma di forza Italia cosa chiaramente falsa perché non l'ha scritto Tria ma insomma si tratta di un pragmatico molto vicino a Berlusconi tant'è che qualcuno oggi dice che Berlusconi sarebbe contento ahimè mi viene da piangere per Moavero e per Tria va bene Tria ma l'idea che Berlusconi sia compiaciuto del fatto che ci sia Moavero ministro degli esteri vabbè diciamo che tanto il ministero degli esteri conta quanto il 2 di picche in questo paese perché la politica estera la fa la Mogherini chiaro la politica estera la fa la Mogherini grande intuizione di quella genialata che fece Renzi quindi insomma non ci possiamo lamentare ognuno è infelice a modo suo tra gli altri ministri vi segnalo a parte della Grillo ne parla Repubblica nessuno si occupa molto della questione della Lezzi che è una brava ragazza che si occupa del ministero del sud altra grande minchiata cioè non è che a sé al sud gli dici c'abbiamo un ministero risolvi i suoi problemi non è che con un decreto si trova lavoro non è che con un decreto si fa la giustizia non è che con un decreto si migliora e si rende felice l'uomo fai il ministero del sud dice così me ne occupo faccio il decreto della della del sud e sono a posto comunque se l'idea del sud è quello della Barbara Lezzi che manifesta contro la TAP e con quattro diciamo manifestanti blocca i lavori della TAP che sono dovuti essere che le hanno militarizzati ecco se questa è l'idea dello sviluppo del sud grazie all'idea di avere il ministro del sud mi fa un grande piacere facciamo un bel sud diciamo di cavolfiori senza ilva senza TAP senza infrastrutture senza strade andiamo soltanto sul chilometro zero e sui trulli sono ben contento che questo sia lo sviluppo del sud lo pagheremo ovviamente fra vent'anni come stiamo pagando oggi le scelte incredibili fatte dalla magistratura a Taranto comunque per la repubblica questa sarebbe la nuova destra al potere beati loro questa è la nuova destra al potere quando qualcosa non piace la repubblica diventa sempre la nuova destra sarà chi comanda nel momento 5 stelle ve l'ho detto uno dei temi che si pone nei prossimi anni altre questioni fondamentali invece ci riguardano e non sono soltanto sul governo ma peraltro il governo può contarci poco e riguardano i dazi Trump ha deciso di mettere i dazi sull'acciaio e sull'alluminio a partire da oggi anche sull'unione europea questa roba costa l'Italia 170 milioni di euro questo per darvi l'idea quanto l'acciaio ancora sia una roba importante per l'Italia sempre no l'idea l'acciaio non si fa in Italia 170 milioni di euro ecco i dazi si sa dove iniziano e si sa dove finiscono stiamo attenti a chiedergli noi stessi dazi perché se no andiamo a finire chi è chi ce l'ha più forte e in questa vicenda per esempio c'è un retroscena molto bello oggi del Corriere della Sera in cui dice che non ci saranno ritorsioni europee ai dazi americani forti quanto si vorrebbe sapete perché perché hanno paura i tedeschi che comandano in Europa che poi ci siano di ritorsione a loro volta degli americani di nuovo sulle auto tedesche che vendono in un milione e mezzo di esemplari in america quando si inizia sui dazi sono cazzi questo potrebbe essere diciamo uno slogan volgare di quello che bastia diceva nel 1800 hanno rubato per la terza sesta volta in tre anni nella fabbrica di zanotti uno che fa scarpe a cesena zanotti è furibondo e dice io me ne vado da questo paese non è possibile che mi hanno rubato ancora le scarpe che devo portare in america perché lui come l'ultimo degli imprenditori l'ultimo degli artigiani l'ultimo dei commercianti che sanno bene cosa vogliono dire i furti sanno che pagano le tasse e la polizia si occupa degli scontrini dei gelatai e non degli affari loro per cui non è possibile che a zanotti per sei volte in tre anni vanno con i camioncini a fottergli le scarpe è una roba allucinante meno male che problema sicurezza non c'è e spero che salvini ministro dell'interno di queste cose si occupi bene e l'unico forse ministro su cui ho poco da dire quello di salvini al ministero degli interni nel frattempo però la guardia di finanza qualcosa fa come nel caso di facebook ha beccato 300 milioni secondo lei di alla fine di un'istruttoria di redditi non dichiarati in italia ovviamente la cosa è più complessa bisogna vedere effettivamente quante royalties facebook italia parla ha pagato le sue consociate in irlanda le cai ma non so dove cavolo le ha bisogna stabilire il processo parte ma questo è un tema cioè capire come localizzare in italia i redditi prodotti dal fatturato che viene fatto con persone italiane sacrosanto su questo deve lavorare la finanza e fa bene a farlo juncker ubriaco dice che gli italiani sono dei corrotti direi che lui dovrebbe pensare della sua corruzione fisica l'ultima cosa è un'intervista a lucy liu voi direte chi è lucy liu ve lo dico io chi è è quella straordinaria ragazza dall'area asiatica sapete subito non solo dal cognome dal nome ma è un'asiatica con gli occhi asiatici bellissima che vi ricorderete in kill bill che fa quello straordinario duello alla fine sul sulla neve e poi sono tutte quelle goccioline di sangue che solo kill bill poteva solo tarantino poteva immaginare alla fine di quel film straordinario è la donna delle arti marziali è la donna di tarantino è la donna che ha fatto tantissimi film è la donna che faceva la capa della mafia appunto in kill bill e che taglia una testa a una riunione di mafiosi di yazuka in giappone è un personaggio straordinario non solo di tarantino ma della cinematografia hollywoodiana tutto questo per dirvi una cosa che in un'intervista oggi gli dicono ma lei si è mai sentita discriminata e lei risponde sì mi sono sentita discriminata sapete perché ho subito discriminazioni sei troppo asiatica mi è stato detto e questa è una discriminazione sei troppo asiatica ma porca puttana ti prendono perché sei asiatica perché sei la capa della gialla della diazuka ti prendono ma siamo impazziti cioè viene considerata discriminazione una che c'ha gli occhi a mandorla e che c'ha l'aria asiatica e che si fa chiamare liu si liu e che conosce le arti marziali si si è discriminata perché è asiatica ma è una roba fantastica arriveremo alla parità di genere per cui metteremo le titte finte ai culturisti perché se no si possono sentire discriminati nei ruoli maschili e non femminili all'interno dei film americani una roba da impazzire l'intervista sua a della sera vi do un grande braccio di azuca come cacchio jacuzza 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 scusami jacuzza ne dico di tutti i colori ho detto jacuzza per tre volte jacuzza jacuzza anche gianni mi corregge jacuzza antonio non jacuzza tutti la conoscete tutti la mafia jacuzza adesso mi stai compagnando casini diciamo fa casino comunque a parte ste mie errori clamorosi vi do un abbraccio a tutti quanti vi do appuntamento questa sera come sempre con 105 matrix e tutte le novità sulla politica e il governo che giura le 16 su nicola porro punto it ciao